Ciao a tutti, io sono Ambu e qui con me oggi c'è una persona che non sentivate da diverso tempo, chi è che c'è? Ciao! Eccola qui, è Isa! Appunto, ora lei è tornata dalle vacanze e io, come state notando, ho passato, diciamo, il periodo dove tra una cosa e l'altra avevo mille problemi, mille cose da fare e ora potremmo registrare, cioè tornare a fare gli episodi di Skyblock. C'è un piccolo problema però in tutto questo, quale? Che io al momento ho la possibilità di registrare, quello sicuramente sì, ma non ho la possibilità di fare streaming perché ho appunto problemi di connessione e non riuscirei a farlo. Quindi, la domanda che volevamo farvi è un po' questa. Visto che è da tanti mesi che lo state aspettando e vi interessa molto, ne siamo entrambi certi di questa cosa, volevamo sapere un attimo un vostro parere se vi andrebbe bene vederlo lo stesso come episodio normale e non come episodio in streaming, dato che non sarebbe fattibile la streaming al momento. Non è che soggetto però? La gara di pesca. Ah, sì, vabbè, la gara di pesca, l'episodio speciale, diciamo, il ventesimo episodio, vederlo a schermo su YouTube invece che vederlo in diretta su Twitch. Questo appunto perché se siete interessati a vederlo in live dovremo probabilmente aspettare ancora un periodo non definito, cioè quando mi tornerà a posto la connessione. Quindi, niente, era un piccolo video aggiornamento questo per darvi questa notizia che credo vi farà felici saltare di gioia, lanciarvi sulle pareti e vomitare arcobaleni. Wow! E niente, questo è tutto. Quindi, mi raccomando, la cosa è molto semplice, più di quanto possiate pensare. Io lascerò due commenti, i primi commenti di questo video, quindi in caso andateli a cercare se ci saranno tanti commenti all'interno del video, i primi, in cui vi chiederò, appunto, sì, registrala lo stesso senza fare lo streaming oppure no, preferisco aspettare lo streaming e date un voto al commento a cui siete interessati. Però, appunto, un voto al commento, non scrivete sì, io lo voglio vedere in streaming o cose simili perché viene molto più comodo semplicemente se votate il mio commento che dice cosa fare. Poi, eventualmente, se avete proposte per la serie, per come portarla avanti o altro, quello potete sempre dare dei consigli all'interno dei commenti. E direi che questo è tutto. Tu, mia paladina della giustizia, confermi? Confermo, confermo. Oh! Sta forno. Allora, possiamo salutarci per questo video aggiornamento e aspettiamo un vostro risponso per decidere se partire con le registrazioni di Skyblock o meno. Quindi, al prossimo video, ragazzi. Ciao! 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 Ciao!